Io stiamo avviando, vediamo, vediamo, ce la faremo, sì, ce la faremo, eccoci qua, sempre un po' prima, siamo tornati con la nostra Alessandra di Amore Imperfetto, quindi iscrivetevi a questo top canale di Amore Imperfetto, ciao Alessandra. Ciao Massimo, eccomi qua, malgasciona di fine anno pronta. Malgasciona pronta, già in rosso quasi, con qualcosa di rosso, almeno sembra rosso però più o meno. Grazie, buona sera a tutti, grazie mille. E oggi vediamo, secondo i consigli di Alessandra, per il 2023, che non è l'oroscopo però è come evitare nel 2023 gli agnelli, cioè gli agnelli non da mangiare, ma non mangiate neanche, ma gli agnelli, cioè i lupi travestiti da agnello. Esatto, i lupi travestiti da… Chi ancora non ti conoscesse, presentati prima, perché così almeno sanno le persone chi sei. Grazie, allora innanzitutto, grazie a tutti, buonasera, ringrazio soprattutto tanto, tantissimo Massimo, che è la quarta volta che mi ospita sul suo canale, perché è un maestro, io sono piccola, appena nata, quattro mesi fa. Ho avuto questa idea e ho inventato il contenitore Amore Imperfetto, è un canale YouTube che mi ha dato delle buonissime soddisfazioni, perché sono quasi a 1.500 in quattro mesi. Ah, allora, allora. Sto andando molto di corsa, di corsissima, e tratto argomenti relativi all'amor proprio alla forza interiore. Nel senso che io, nello specifico, per più di 20 anni ho lavorato a contatto con le persone nel settore medicale e mi sono occupata soprattutto della gestione della clientela, sia a livello emotivo che a livello tecnico, nell'ambito della medicina estetica. Chiaramente lavorare a contatto con tante persone, poi è più di 20 anni che comunque mi occupo di studi di psicologia, PNL, sono partita anche dal mondo dell'olistico, ho studiato naturopatia, quindi tutto un mix di interessi, studi e anche di esperienza che mi ha consentito di creare comunque del materiale, nel quale, obiettivo anche del mio canale, è quello di cercare di evitare il più possibile le persone tossiche, le situazioni tossiche. E questo chiaramente avviene a mezzo soprattutto dello sviluppare amor proprio e forza interiore. Come ci insegni tu Massimo, io ricordo sempre il primo video che ho visto che mi ha colpito al cuore, che è ama chi ti ama, io non ero neanche una grande consumatrice di YouTube, poi un giorno mi è comparso questo video e ho detto Ah però, tra l'altro era arrivato a fagiolo in una situazione molto particolare, quindi ho voluto diciamo anche io dare il mio contributo in questo senso, perciò il mio canale che ha diverse playlist, esiste una playlist specifica per le persone con carattere narcisista, per pillole di sopravvivenza psicologica, crescita personale, e anche una playlist che si chiama l'alchimista, perché utilizziamo diciamo uno spunto, esatto, dalle tecniche olistiche per trasformare il piombo in oro. Quindi io ho avuto una vita anche molto difficile, molto particolare, che non sono qui a descrivere, però questo sicuramente mi ha dato l'ottanta per cento dello spunto poi dei contenuti che io divulgo, forse l'ottantacinque, forse il novanta. Ah, certo. E' un contributo alle persone che non stanno bene. Ne ho sentito veramente il bisogno, perché fondamentalmente molte delle cose di cui parlo io le ho vissute in prima persona e ne sono gloriosamente uscita. Quindi questo mi fa venire voglia di aiutare gli altri, insomma, questo è il discorso. A proposito dei lupi travestiti da pecore, Massimo, io ho fatto un video anche su come ho ricevuto un abuso da una narcisista covert, questo certificato, in termini di amicizia e per anni, tra l'altro. E mi interessa questo argomento perché spesso si parla di un atteggiamento abbastanza manifesto, no? Perché è chiaro che quando si parla di approfittatori o di persone che ci manipolano, si parla anche di atteggiamenti che si vedono, che magari possono saldare all'occhio subito. Ma chi ha un comportamento più covert, più celato, è un po' come Cappuccetto Rosso e la nonnina che invece era il lupo, capito? Sì, sì, sì. E ci sono queste nonnine che vanno in giro. Lupo cattivo. Come, Massimo? Lupo cattivo. Alla faccia del lupo cattivo. Il lupo cattivo almeno sappiamo chi è, poi questi manco sappiamo chi sono. Cioè, quello è ancora peggio. E quindi mi è venuta voglia anche di dire, ok, state attenti, però c'è tutta una parte, poi, di persone che si presentano come la ragazza della porta accanto, l'amica della porta accanto, ma ti ritrovi un licantropo sul groppone, capito? Quando è troppo tardi, perché poi si fa fatica anche a comprendere e uscire tante volte da una forma di, proprio un abuso, no? Eh, sì, ti stucchiano il sangue, veramente, sono il licanto più vero e proprio, insomma. Esatto, esatto. Perché poi che cosa c'è? Che chi magari ha un carattere più esuberante, vedi, io dico sempre, anche nei miei video, attaccato a me, è difficile che venga proprio un narcisista overt, perché io per loro risulto abbastanza fastidiosa, no? Mentre invece, tutte queste brave ragazze, tutte queste persone acque e sapone, tutte queste acque e chette, io mi sono molto fatta fregare. Le gatte morte. Le persone che soprattutto, quando tu sei in un momento di difficoltà, perché poi il problema parte un pochino tutto da lì, il fatto che noi a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci stia vicino, no? C'è chi non ha i genitori o chi ha delle situazioni magari di solitudine o dei momenti di difficoltà nella vita, quindi possono arrivare delle persone che si presentano come amiche, che mostrano molto interesse per le tue situazioni, tanto da quasi anteporle alle loro, interesse che qualche volta, oggi come oggi, mi verrebbe da dire, è anche un po' troppo, come mai? Però quando una persona è in condizioni di bisogno, non se ne accorge, quindi questo purtroppo ci mette in condizione. Sembra la manna caduta dal cielo. Esatto, Massimo, guarda, infatti io... Invece noi sappiamo che dal cielo, a seconda della posizione, o ti cade la merda di Piccione o quella di Gagliano, se sei al mare, magari, ma la manna non cade. Come tu dici, Massimo, nessun pasto è gratis. Nessun pasto è gratis. Quindi noi dovremmo anche chiederci perché questa persona viene in maniera così prorompente, anche se con un mood celato, verso di me. Perché è così interessata a farmi del bene e ad aiutarmi? Perché vuole così entrare in profondità nei fatti miei? In effetti, una volta, io ho sentito una psicologa bravissima anche, dire come la maggior parte dei covert, per esempio, possono essere trovati come leader, anche nelle sette, no? Si presentano come persone ginocue, molto semplici, senza nessun tipo di attaccamento, quelle che ti possono dare il riscatto, ma lì bisognerebbe veramente chiedersi perché a questa persona interessa così tanto di me. E quando una persona è comunque un dipendente affettivo, un ex dipendente affettivo, in situazioni di bisogno, magari di tenerezza, di un aiuto, di un abbraccio, è ciccadi. Ci cadi, ci cadi, è vero, Massimo. Per quello la forza interiore, secondo me, è molto, molto importante, perché è quello che innanzitutto ci fa trovare il punto saldo dentro di noi e poi ci fa capire che sì, la bontà, noi possiamo essere buoni, ma non è detto che tutti siano uguali e che abbiano tutti lo stesso scopo. Eh no. Eh sì, questo è vero, tra l'altro le persone buone, tra virgolette, spesso appunto con questo meccanismo proiettivo, credono che anche gli altri siano uguali, invece spesso poi appunto si presentano come agnelli, ma sono lupi, insomma, quindi bisogna stare attenti. Esatto, un attimo, un'altra cosa che ho notato è fare delle vetture. Esatto, ma sai un'altra cosa che ho notato anche a proposito di bontà, no? Le persone realmente buone e generose fanno, fanno e hanno quasi l'impressione di non fare mai abbastanza, paradossalmente, no? Anzi, se pensano di aver dato quel qualcosina in meno, magari sono addirittura già lì che si sentono un pochino in colpa o che cercano di capire come poter ulteriormente migliorare. Mentre invece c'è una grande differenza tra chi è buono o vero e chi fa del marketing rispetto alla propria bontà. Perché ti è mai capitato di incontrare delle persone, per esempio, che sponsorizzano continuamente a parole? Ah, io sono sempre buono, ah, io sono fatto così, ah, io do. E quindi anche questi, spesso e volentieri, in un primo momento di rapporto, ti invitano, ti coinvolgono, fanno. Tutto questo anche perché ti vogliono a modo loro. Perché la prima volta... No, dicevi, in questo caso vale sempre detto, escusatzo non petita, accusatzo manifesta. Cioè, se qualcuno ti dice qualcosa che tu non l'hai richiesto, spesso c'è il significato contrario, no? Se tu vai a cena con un uomo, tu non gli chiedi niente e questo spontaneamente ti dice io sono un uomo fedele, stai certa che non ti farà mancare, ti farà mancare tutto se avrai una relazione con lui. Ma le corna, quelle invece saranno garantite, quelle non ti farà mancare. Esatto, esatto. Le affermazioni... Chi si autopromuove, come dire, chi si loda si imbroda, no? Sì, e anche quella a volte, sempre se una persona è magari in un momento di bisogno, è una forma di manipolazione o per fare abbassare le difese. Sì, sì, certo. La prima volta che poi tu per un X motivo, per N motivi, entri anche solo in un conflitto superficiale o ci discuti con questa persona, subito ti accorgi che nel momento in cui esci da un seminato che lei aveva creato e nel quale ti voleva tenere, allora la storia cambia e tutta questa bontà stranamente... Sì, sì. Esatto, sparisce e si dissolve nel nulla. Quindi anche qui è molto importante perché noi, ripeto, siamo abituati tantissimo a stare attenti alle persone con atteggiamenti negativi manifesti. Però poi non ci accorgiamo che ci sono tanti modi di arrivare in maniera subdola e poi ti trovi fregato. Magari più di quanto potresti essere maltrattato da una persona diversa. Perché... Ah, d'altra parte, come hai detto, no? Dagli amici mi guardo io, dagli amici mi guardi di io. Esatto, esatto. E sai perché? Perché poi dopo che cosa succede? Che tu quella persona l'avevi identificata o comunque l'avevi introiettata come una persona buona. quindi prima di... Guarda, nella mia esperienza personale, tra l'altro ti parlo di una persona con delle qualifiche e una laurea in psicologia, quindi è stata una cosa anche poco bella perché aveva tutti gli strumenti, no? Per poter, come dire, entrare nella mente di una persona e farle fare o dire quello che voleva. Ma prima di scoprirlo, io ci ho messo tanto tempo, guarda, tre anni nello specifico, perché c'è un momento nel quale tu dici no, non è possibile, perché questa persona si è presentata così, mi ha aiutato, ha dimostrato dell'interesse nei miei confronti, quindi entri in dissonanza cognitiva, perché tu in un certo senso le hai messo in mano la tua vita, tra virgolette, o comunque delle speranze e degli affetti di quel momento della tua vita. E di staccarti poi è veramente difficile. Infatti io penso anche a tutte le persone che spesso si trovano in situazioni e in condizioni di dipendenza. A volte si diventa anche dipendenti da una persona negativa, da una persona tossica. Eh no, quasi sempre così. Perché il bagno di realtà non è così facile farlo, eh? Eh no. Quindi è importantissimo riconoscere queste persone, davvero secondo me è importantissimo, molto importante. No, no, è fondamentale, fondamentale. Come dicevamo prima, bisogna fare tutte le verifiche prima di abbassare le difese, che non vuol dire essere difidenti in senso assoluto, ma comunque le verifiche vanno fatte, perché altrimenti si rischia veramente di prendere lucciole per lanterna, insomma. Sì, infatti, anche perché secondo me noi abbiamo poca cultura della costruzione della fiducia. Quindi o partiamo in quarta e la diamo a chi in realtà poi non se la meriterebbe, oppure proprio perché nel caso precedente è andata male, non la diamo a nessuno. Esatto, esatto. Vero. Perché si generalizza, no? Il meccanismo della pianela. Esatto. Ti è andata male con Mario Rossi, allora fai un'equazione Mario Rossi uguale a tutti gli uomini, tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena. Esatto. Lì, come dire, entri in uno stato emotivo, per cui nello shock emozionale qualunque messaggio poi diventa una suggestione, no? Cioè, e quindi, che ne so, incontri un padre spirituale che ti dice, figlia mia, fatti suora, leggilo come un segno del signore che ti chiama e ti fai suora. Oppure incontri invece la tua amica e ti dice, ma sì, dai, tutti gli uomini sono uguali, tanto vale fare la mignotta e andare con tutti, inizi a fare la mignotta, diciamo. Esatto, 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 esatto. Poi, ecco, un'altra cosa a proposito delle amiche, proprio perché questo potrebbe essere il contesto, quantomeno per l'esperienza che riportavo io, io mi sono resa conto che molti di loro poi ti spingono a fare delle cose come se fosse una sorta di esperimento. Eh sì, 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 sì. Cioè, i consigli che ti danno e che magari tu credi che siano anche bene per te, in realtà poi sono degli esperimenti che loro vogliono farti fare. Questa cosa l'avevamo già anche anticipata quando l'altra volta abbiamo parlato delle gatte morte, delle persone invidiose, del fatto che delle persone ti fanno delle osservazioni o ti danno questi pseudo consigli che poi altro non sono che a volte portarti fuori strada, no? Ah sì, certo. Perché magari, perché poi una cosa, ma in questo sei maestro tu, si parla di seduzione e di frequentazione tra due persone. Cioè, c'è un po' questo vizio di andare al bar e di raccontare agli amici, però in realtà anche questo, a parte che disperde l'energia, e tu sai meglio di me, che delle cose non bisognerebbe assolutamente parlare, e soprattutto se tu devi stabilire una relazione intima con una persona, andare poi a fare il verbale alle amiche, per quanto una voglia bene alle amiche, però è un vizio che secondo me bisognerebbe un po' togliersi, perché poi… Sicuramente bisognerebbe togliersi, perché altrimenti non… Oltre al fatto che la relazione è intima tra due persone e quindi dovrebbe essere gestita dagli stessi. E poi c'è sempre qualcuno che secondo me ci mette il becco, anche un pochino per dire la sua, siamo tutti diversi, quindi ti vivi un qualcosa per mezzo del punto di vista o della testa di un altro, e questo… Sì, sì, questo è deleterio. Non va, secondo me, non va molto, molto bene. Quindi nel 2023 sarebbe bello, se riuscissimo, almeno, come dire, a preservarci un pochino. Eh sì. Sotto una campana di vetro, ma stando dentro, io dico sempre immaginiamoci una rete di luce che ci protegge. Eh, questo è interessante, sì, come anche da un punto di vista di schermo esoterico, diciamo. Esatto, perché la rete comunque ci dà la possibilità di metterci a contatto con gli altri, non è una campana che occlude tutto. La rete permette comunque un passaggio, però allo stesso tempo ci protegge e ci permette di vedere le cose con un pochino più di razio. Sì, sì. Anche qui, tanti anni fa, quando ho iniziato ad ascoltarti, per me è stata un'illuminazione iperlogici ed emotivi. Anche questo è un mondo che molte persone non hanno neanche presente che esista, ma invece del quale bisognerebbe veramente tenere presente. Eh, beh, sì, ogni persona ha delle caratteristiche, quindi è fondamentale comunque rendersene conto. Questo è un pochino. Esatto. Anche perché sai Massimo, dai motivi il mondo è molto, è tutta una confusione. È tutto un, è un Luna Park, perché sicuramente magari puoi goderti degli aspetti in più rispetto ad altri, ma ci sono le montagne russe e quindi bisogna stare attenti, perché vivere costantemente sulle montagne russe io direi che non è sano. È scoperto tanto, eh. Esatto, esatto, esatto. E quindi, insomma, questa è una cosa che secondo me ci permette anche di trovare poi le persone che ci vogliono bene davvero. Sì, 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 perché ci sono comunque, cioè non è che non ci sono, dobbiamo… Assolutamente sì, assolutamente sì. Solo che le cose vanno costruite. Questa è anche un'altra cosa che secondo me molte persone o non ne tengono conto, oppure io mi ricordo quando ero molto giovane, che ero super energica, super… Tutto subito, tutto di fretta, tutto invece con il passare del tempo diventando malgasciona ho apprezzato quanto invece durino molto di più e abbiano più valore le cose costruite. Ah sì. Questa è una cosa che se una persona non l'ha acquisita da piccolo, da bambino, non gli è stata trasmessa, è positivo se riesce comunque a comprenderla, a consapevolizzarla e a metterla in atto da adulto. Sì, è vero, è vero, perché prima o poi bisogna arrivarci, insomma, a questa consapevolezza. Sì, 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 e quindi è molto importante anche da questo punto di vista selezionare bene le persone, questa è un'altra cosa importante, ma non essere selettivi… Sì, ma bisogna imparare anche a stare bene da soli, non avere proprio sempre l'esigenza di avere sempre qualcuno vicino, anche a livello di amicizia, però c'è perché ci sono molte persone che per paura della solitudine, come dire, sono disposte a mangiare anche merda, tra virgolette, come passare il termine. Quindi bisogna stare… trovare una propria pace interiore, perché alla fine, come dire, il detto meglio soli che mal accompagnati è vero, comunque alla fine. Guarda Massimo, io ti devo dire la verità, visto che mi avevi chiesto qualcosa di me, io sono una persona molto solitaria, moltissimo, chi mi conosce lo sa, sono amichevole, erido e scherzo, ma amo la solitudine, oltre al fatto che la creatività che io devo utilizzare in vari ambiti spicca e sboccia soprattutto nella solitudine. Allora, da parte della società, anche qui, l'uomo è più accettata questa solitudine, no? È vero, questo è vero, sono una donna, forse sono delle impressioni sociali che magari la spingono a… Questo è vero. Guarda, io mi sposto da sola, vado all'estero da sola più volte all'anno, mi piace tantissimo, spessissimo vado in vacanza da sola e tu non sai tutte le volte che le persone sanno che io faccio queste cose rimangono scandalizzate. E la prima cosa che fa qualsiasi cliente, anche in ambulatorio dove sono, è chiederti se sei sposata, se sei fidanzata, perché non ce l'hai, quindi puoi cercare anche di indagare nella tua identità di genere, perché dico, magari non è etero, ma non hanno capito che generalmente questo non denota la quantità di frequentazione, anzi, io ho degli amici gay che escono molto più degli etero e hanno frequentazioni molto più dell'etero, però io è un po' di tempo che subisco quello che hai descritto tu nel video dell'altro giorno, il single shaming. Sì, sì, sì. Perché, che poi io voglio dire una cosa, si prendessero la stessa libertà i single di fare dei commenti o degli apprezzamenti sulle persone che stanno in coppia e le scenette che vediamo, allora lì veramente ci sarebbe da ridere. C'è anche una grossissima disparità, secondo me, da questo punto di vista. Sì, sì, secondo me. La società spinge, soprattutto qua in Italia, magari anche all'estero, non so, ma in Italia sicuramente c'è questa tendenza al voler creare delle famiglie, poi alla fine che piuttosto, diciamo, ma anche i genitori, adesso magari forse le nuove generazioni un po' meno, però i nostri tempi, cioè, beh, tu sei molto più anziana di me, no, scherzo. Scusami, ho 68 anni, scusami. Non c'era bisogno che lo dicessi adesso in questa live, Massimo. Giovane di me. Ti riporto bene. Sei molto più giovane, sei giovanissima. No, però a parte gli scherzi, cioè, già nella tua generazione, secondo me i genitori, le mamme insistevano un po' sul, non so la tua, però in generale. Guarda, io vedi, io sono una donna un po' anomala, ti dico la verità, perché, per esempio, nella mia famiglia poi tutti si separarono e si risposarono, quindi l'unica single, devo dirti la verità, sono io. Quindi non posso neanche dire, ma nessuno spinge però, nel senso sono sempre stati tutti molto sereni e tranquilli, però io sono abbastanza, non dico individualista, perché poi dire individualista è anche brutto, si dà un'accezione di egoismo, invece mi ritengo abbastanza altruista, e che non ho mai pensato che la vita fosse in due, io penso che la vita sia uno, poi tutto quello che viene, se ti fa stare bene, e trovi qualcosa che veramente dici, questa è una persona dove ci siamo riconosciuti, e dà un valore... Adesso, se ti interrompo un secondo, mi sono detto una cosa, se no con la mia età poi mi dimentico. Ma che sei un ragazzino, non come me che ho 68 anni. No, ci sono quelli che... Cioè, si facessero i cazzi loro, cioè io non ho nulla contro il matrimonio. Ma è possibile, Marco, poi con le donne, guarda, te lo dico io. No, no, vabbè, io non ho nulla contro il matrimonio, se uno è il suo sposo, se uno è il suo sposo, se uno è il suo sposo, lo sa, però che cazzo gliene frega di venire a dire a te che cosa devi fare, cioè, ma, come dire, saranno un po' fatti miei, no? Voglio dire, cioè, non è che sono uno scolaretto che devi dirgli fai questo, fai quell'altro, ti insegnano le tavole pitalgoliche, cioè la tabellina del due. E questo lo voglio chiedere a te. Secondo te non c'è forse a questo punto, visto che nel mio caso sono morbosi, io tante volte ho con alcune persone che continuavano a chiedermelo in maniera morbosa, ho detto, ragazzi, però, io rido di questa cosa, ma mi sembra che a questo punto sia un problema più vostro che mio. E mentre io non ci penso, non potete a ripetizione fare la solita domanda, cioè, se uno fosse stato investito da un'auto ed era con multifratture in ospedale, ti avrebbero chiesto meno volte se stavi bene, cioè, di quelle che non ti hanno chiesto come mai non hai il compagno, che tra l'altro io sono, tra l'altro, divorziata, ero stata sposata con un ragazzo carinissimo, quindi non sono neanche zitella, però c'è questa morbosità, Massimo, veramente una morbosità estrema, e anche qui ogni tanto creo dei contenuti, perché sai, ci sono tante ragazze, poi lo vedi anche tu, che sei maestro in questo, cioè, tutta questa pressione, in fin dei conti, non è giusta, anche perché poi se uno, ripeto, dovesse aprire bocca sui compromessi, o le cose che alcune persone hanno in casa, e beh, allora qui viene fuori veramente un Muppet Show, Cioè, certa gente è fortunata che noi non ci prendiamo la loro libertà poetica, perché se no ci metti quattro secondi a smontare certi tipi di Colosseo Farrari. Certo, certo, c'è, veramente. Anche meno di quattro secondi. Esatto, e quindi io penso che sia molto spesso un discorso di proiezione, oppure molte persone vedono nell'altro un qualcosa che rappresenta una minaccia. Eh sì, oppure hanno avuto un matrimonio di merda loro e voglio un po' pinarlo anche a te. Ah, grazie! No, vabbè, questo... No, 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 io dico sempre... Poi certe cose, vedete, addirittura, guarda, a me una carissima signora che vedo spesso, l'altro giorno mi ha detto no, non è possibile, tu almeno un amante ce lo devi avere. Ho detto, guarda. La mia risposta è stata, guarda, io generalmente non entro in un ristorante per mangiare gli avanzi nel piatto di un altro, quindi non è proprio il mio format. Però per dirti che c'è questa convinzione veramente profonda e alla fine questo è un male. Perché? Perché ci fa bere anche dalla pozzanghera di Calcutta quando abbiamo sete e così ci avveleniamo. Esatto, esatto. Perché questo è il risultato di aver fatto le cose in maniera forzata, quindi di amor proprio alla fine dei giochi non c'è proprio niente. Eh no. Perché tu dici, fra i giovani, io tra i giovani, guarda, sento delle robe che sinceramente io quando avevo vent'anni negli anni novanta quelle cose lì non esistevano, eh. Beh. Cose proprio dell'ABC, dell'educazione e del comportamento. Quindi se oggi si è portati a credere che quella sia la normalità, allora poi si fa presto ad ammalarsi, tra virgolette, no? Ah sì, certo. Perché non si mettono dei sani paletti, non si riescono a riconoscere le persone sane, si rimane in una perenne condizione di bisogno, quando invece, secondo me, scoprire se stessi è la cosa più favolosa di questo mondo. Certo, certo. No, condivido, condivido. Massimo, quando io salgo su un aereo che sono da sola in pace, dico ah, finalmente non devo parlare con nessuno. Poi non va così perché io sono una chiacchierona taccopezza con tutti, come si dice da queste parti. Però il fatto anche di custodirti, io consiglio sempre anche questo, di fare delle esperienze da soli, di andare a mangiare al ristorante da soli, di fare, se uno riesce, dei viaggi da soli. È una cosa meravigliosa. Io ormai non ci faccio più caso, però mi rendo conto quando ne parli con qualcuno che in alcuni genera proprio una sorta di terrore. Sì, sì, è vero, è vero, hai ragione. Il fatto di dire vado lì, mi siedo, ordino. Guarda, veramente ci sono persone che, questo devo dire anche persone vicino a me, spesso me lo dicono, mi dicono ma io non so come tu fai, io mi vergognerei tantissimo. E dentro di me c'è un apro e chiudo parentesi, eh, io mi vergognerei invece a portarmi in giro certe persone. No, però tra l'altro questa predisposizione, diciamo, è poi quella, come dire, quella apertura dove fai entrare il lupo cattivo, no? Perché è da lì che poi entra il lupo cattivo, entra proprio dalla paura di non riuscire a trovare, cioè, a dover stare da solo, non essere in grado, quindi... ma infatti è proprio nel bisogno che noi poi scegliamo male. Tu spesso dici una cosa importantissima, mai scegliere quando hai bisogno di quella cosa. Certo. Cioè, bisognerebbe sempre innanzitutto essere nelle condizioni di non chiedere ma ricevere, che sarebbe veramente qui la maestria. Chi chiede per dente, cosa sia. Esatto. E poi, soprattutto, il bisogno ci mette in condizioni di accettare l'inaccettabile e poi successivamente di farne la normalità. E poi, paradossalmente, quando sei già dentro una sorta di dipendenza perché il lupo cattivo ti ha mangiato, la cosa veramente allucinante è che se il lupo cattivo si allontana, tu hai paura addirittura di rimanere senza quella persona tossica. Questa è veramente la barzelletta del secolo ma che colpisce tante, tante, tantissime persone. E beh, è vero, hai ragione. Perché si fa fatica anche a comprendere che qualcuno ti sta facendo del male e che devi uscire da quella cosa. Ed è difficile perché comunque tu in quel disastro hai trovato un equilibrio. Eh sì, è quello vero, è certo. Quindi rompere quell'equilibrio poi vuol dire mettere in discussione tutta una serie di cose che riguardano la tua vita e trovare un nuovo asset. Perché sai, a volte una cosa sta su perché ha un suo equilibrio, non perché è equilibrata, ha un suo equilibrio. Tu togli un mattoncino, crolla tutto. Eh sì, il castello di carta viene giù. Esatto. Quindi l'augurio sarebbe proprio quello di costruire un edificio con i nostri mattoncini tutto bello dritto perfetto ordinato che se prende una botta anche non viene giù e poi si apre la porta alle persone giuste che ti vogliono bene. Perché una persona che ti vuole bene nella vita vale più di 400 sbagliate. È vero, questo è vero. Sì, sì. Ma in tutte le cose il lavoro che bisogna fare è fondamentalmente su se stessi, cioè acquisire ma anche avere diciamo come dire anche uscire come diresti anche tu dalla zona di comfort perché ovvio che se una donna è abituata ma anche nelle cose pratiche che ne so deve fare una commissione ah no ma chiedo a lui deve portare la macchina dal meccanico ah ma da sola come faccio deve che ne so e se sei abituata sempre che ti appoggi ad altre persone ovvio che diventa anche una dipendenza pratica no? Ma questo vale anche per i ragazzi no? Cioè i ragazzi si sono abituati a stare a casa attaccati alla gonna della mamma che la mamma gli fa tutto e questi una volta c'era il militare gli mandavano lo sbaraglio che secondo me da quel punto di vista lì era anche utile e quindi facevano cioè uscivano fuori per definizione ma tutte le culture hanno sempre avuto i rituali come dire di passaggio no? I riti di passaggio dalla società adulta le culture primitive li sbattevano in mezzo alla foresta dovevano arrangiarsi da soli certo poi c'era il militare per i maschi per lo meno c'era il militare e quindi adesso invece ci sono appunto i bamboccioni che fino a 45 anni stanno a casa della mamma e quindi è poi ovvio che diventa difficile affrontare la vita no? perché è quello che sia anche da tenere in considerazione insomma infatti poi ci vuole equilibrio in tutto perché? perché se tu sei cresciuto in una condizione di estrema campana di vetro o di estremo agio o di estrema coccola fino all'esasperazione quindi oltre ai 20 anni 25 allora in quel caso esigi la stessa assistenza da un coniuge ma anche al contrario se sei cresciuto con un attaccamento non sicuro o una famiglia assente allora ne hai bisogno e ne sei assetato quindi bisogna trovare un giusto equilibrio fra le cose questo è un po' credo che per le donne sia un po' la sindrome della della principessina quella che prima faceva tutto il papà e poi dopo si va a cercare uomini che facciano tutto al suo posto e però il prezzo da pagare c'è cioè nel senso che non è che adesso si sta un po' ribaltando la situazione vero Massimo perché non lo so quanto gli uomini giustamente siano più disposti ad immolarsi meno male meno male ma andate la stessa meno male vero però è anche vero che alcuni tipi di uomini quando trovano una persona di carattere poi non va bene vedi che bisogna sempre trovare una sana via di mezzo se è un carattere di merda magari non dovete dire che carattere intendevo un buon carattere dipende che carattere cioè nel senso che hai ragione no no io sottintendevo tutto quello che entra nella sfera della valutazione ha dei connotati positivi perché quello che si vede già che puzza da fuori non stiamo a scartarlo che ci mancherebbe già se vediamo che l'involucro non è buono io direi di restituire il regalo al mittente e di non scartarlo neanche guarda Massimo facciamo così che è meglio questo è importante direi perché se no se alla fine esatto no comunque no io penso che veramente la come dire la capacità di sbattersi da soli è fondamentale senza appoggiarsi per forza poi è ovvio che se si crea una coppia ci deve essere un'assistenza per carità ma quando uno si appoggia costantemente a un altro allora lì c'è qualcosa che non va bene insomma cioè c'è qualcosa no perché anche quelle manipolazioni guarda la situazione che alla quale molte donne magari anelerebbero perché comunque sia le cose stanno cambiando ma non nascondiamoci dietro un dito ci sono moltissime donne alle quali piacerebbe trovare un uomo con condizioni economiche agiate per poter stare a casa in tranquillità e quant'altro ma in realtà quella ha anche una forma di manipolazione però perché chi paga comanda ah beh certo l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per top per quanto sia anche bella la generosità per l'amor del cielo a tutti quanti noi piace quindi non dobbiamo essere falsi in questo però tra essere generosi ed essere controllati perché non hai spazio a me personalmente io poi sono uscita di casa a 19 anni e ho sempre fatto di mio sempre qualsiasi cosa dalla Z oggi come oggi personalmente a me metterebbe in ansia sapere che un'altra persona si occupa di me perché sono consapevole del fatto che quello è un essere umano il giorno che si stanca non c'è contratto che tenga non c'è niente che tenga com'è giusto che sia secondo me perché altrimenti è peggio di una società anche le società multimilionari uno viene liquidato poi siamo a posto cioè non è che uno deve mantenere un debito a vita qui sarò impopolare in questa cosa che dico però 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 impopolare no no ma poi alla fine come dire se uno è dipendente da qualunque cosa non va bene qualunque cosa sia non va bene questo assolutamente sì Massimo le dipendenze sono quelle che ci fregano anche perché il format poi di una donna che magari ha vissuto in questo modo se si trova da sola ad esempio alla mia età io ho 42 anni ma anche a 32 o a 52 dopo non ce la fa a diventare indipendente quindi il suo format la sua programmazione il suo mindset sarà sempre quello di dover replicare quello che aveva prima ecco perché tante volte mi chiedono ma come mai ci sono donne che riescono a passare da una storia all'altra da una convivenza all'altra ma perché quella non è una scelta sentimentale quello è un allenamento mentale di riuscire ad individuare il pollo giusto tra virgolette è come quello che va a fare dei colloqui di lavoro in tante aziende durante l'anno e appena entri scambi due parole hai già capito che aria tira cioè nel senso è una programmazione verso la propria sopravvivenza e di conseguenza anche le scelte sono tutte programmate su quella base quindi questa secondo me non è una non è una vincita per nessuno dal punto di vista relazionale e sentimentale quindi noi ci auguriamo che l'anno 2023 sia un anno di indipendenza felicità felicità e benessere perché io dico sempre il divertimento Massimo io sono una burlona quindi il divertimento ci vuole sempre e soprattutto di successo qualsiasi cosa significhi per ognuno bene bene quindi ringrazio la nostra Alessandra di Amore Imperfetto iscrivetevi al canale Amore Imperfetto di Alessandra lascerò il link in descrizione quindi iscrivetevi e grazie Alessandra del tuo contributo e quindi grazie a te spero di vederti presto ti inviterò anche sul mio piccolissimo vengo volentieri sul tuo canale vengo volentieri sul tuo canale quando vuoi ci mettiamo d'accordo sono una formichina rispetto a te però si parte dalle piccole cose sì sì ma crescerai crescerai grazie anzi grazie ancora per la tua disponibilità perché io non sono nessuno ma sei sempre stato veramente fantastico grazie Massimo un 2023 per te per tutti così bello che di più sarebbe fastidioso esatto esatto approvato approvato ciao Ale ciao a tutti ragazzi buona serata ciao ciao ciao